AMD ha una nuova bombetta di processore, ma non arriva in Italia. Acer ha lanciato il più strano portatile mai visto. E finalmente arriva in commercio lo Shark X, un case molto, molto particolare. Queste e altre news nel nuovo episodio di Morde News. Ok, siamo arrivati a fine settimana, ragazzi, ci sono un bel po' di news da commentare, soprattutto grazie ai un pochettino residui della Gamescom, IFA e un pochettino di annunci misti. È uscita tanta carne da commentare, sono molto contento. Vediamo di iniziare, come al solito, like, commento e iscrizione sono super graditi, ci siamo avvicinando ai 100.000, probabilmente non farò in tempo a fare un altro Morde News, che già ci saremmo arrivati, quindi vi ringrazio per il momento, ma arriverà uno speciale dedicato. Ad ogni modo, iniziamo. La 5090 potrebbe arrivare a consumare 600 Watt, che se vi ricordate è già una storia di cui avevamo parlato proprio ai tempi delle 4000 nei Morde News del tempo. Semplicemente ogni volta che esce una top di gamma del genere, si annuncia che queste schede potrebbero consumare 600 Watt. E poi reale, nel caso delle 4000 non lo è stato, almeno non nel caso più generale possibile. Quindi di per sé è vero, potrebbero arrivare a 600 Watt di consumo, come ci riporta questa notizia di Techspot, però di per sé, tolto il leak e la conferma di questo copire sete chimiche, di solito c'ha zecca e non mente mai, abbiamo pochi dati. Però c'è da dire che effettivamente le schede potrebbero arrivare a 600 Watt. Il cavo supporta questa potenza, diciamo che semplicemente delle volte non è poi quello che viene immesso sul mercato come prodotto finale, soprattutto per le Founders Edition. Magari è un qualcosa che si può raggiungere con modelli più sparati, quali le Kingpin. Quindi di per sé, faremo vedere. Ho detto la Kingpin, ma in realtà la Kingpin non esiste più perché VGA non fa più schede video, quindi modelli analoghi. 480 Hz, vi sembrano pochi? Beh, sappiate che per Acer lo sono, e infatti hanno rilasciato il nuovo monitor da 600 Hz! Sìììì! Io fatico a vedere la differenza tra 240 e 360 e questi hanno quasi doppiato il secondo numero. Let's go! Let's go? La prossima line-up di modelli della serie Nitro Nitro saranno appunto il 600 Hz XV240 F6 accompagnato da un 520 Hz XV270 F5 e infine 500 Hz VQHD, quindi 1440p formato da 27 pollici modello XV270U F5. Prezzi per questi modelli che vanno dai 349 dollari ai 799. Allora, devo dire, come al solito, ogni volta che escono nuovi modelli per quanto riguarda i monitor, c'è a dire una semplicissima cosa. I prezzi calano in maniera sostanziale nel corso di soltanto due anni successivi al loro annuncio. Di per sé questi sono numeri veramente alti che interessano solo una fetta piccolissima della popolazione che si possa godere il gaming con le 4090, cose così, o abbia ambizioni sopra la media. Però di per sé, tolto il compensare per qualcosa, non trovo un reale utilizzo per questo tipo di monitor. Ad ogni modo, la cosa interessante è che stanno facendo più che altro calare il prezzi di quelli invece umani, 144, 240 Hz, fino ai 360, per il Full HD e per il Quad HD e poi anche per i 4K. Assieme ai QD OLED sono queste categorie che stanno spingendo il prezzo di monitor verso la parte bassa. E onestamente, non potrei che essere più contento. Se comprate un monitor di Acer, questo è quanto sarete felici. Guardate, persino il cantante del monitor. Questa è l'immagine stock più bella che abbia mai visto in vita mia. Bellissimo. Poi è tutta sovraesposta. Bellissimo. 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 Ok, continuando sempre sulla linea di Acer, è stato annunciato un portatile veramente interessante. Prende il nome di Dual Play e modifica ampiamente quello che è il concetto del portatile da gaming. Ora, se avete in mente il classico concetto del portatile da gaming, fondamentalmente quello che avete è una grossa potenza di calcolo con sopra una tastiera, un monitor attaccato e un trackpad. dal 90% dovreste, appunto, utilizzare un mouse esterno, per esempio, per poter giocare alla maggior parte dei giochi, nonché sarebbe più comodo avere comunque periferiche esterne al corpo del portatile, sia per una questione di temperature che per una questione in generale di comodità, ergonomia e praticità di uso. Ora, Acer prova a risolvere questo problema. Come? Con questo nuovo laptop che si chiama Dual Play. Cosa fa di speciale? L'ho visto dal mio amico di tutto Android, Bernardo Fasano, ma effettivamente questo è il concetto. Vedete che queste mani hanno, infatti, tra di loro questo piccolo gamepad. Praticamente quello della Switch, un controller qualsiasi. Ed effettivamente il concetto è che questo qui è in realtà il trackpad. Come potete vedere il trackpad si stacca e ruotandolo sotto troviamo il controller. Il tutto sembrerebbe senza prendere uno spazio infinito al laptop che rimane comunque nella media delle dimensioni dei laptop normali, non troppo distante. E questo ci permette di avere quindi un controller effettivo con cui giocare ai nostri giochi preferiti, senza l'utilizzo di un mouse esterno o della tastiera effettiva dell'upload. Praticamente, sì, c'è tutte queste cose. Come vedete, si alza appunto la parte del trackpad e girandolo c'è questo effettivo controller di cui si possono anche staccare le due parti, utilizzarle separatamente, esattamente come i nunchuck della Switch. Ed è veramente figo di Joy-Con in realtà, non nunchuck. Però di per sé è un concept veramente molto interessante che dà uno sprint extra ai portatili da gaming e li rende decisamente interessanti. Passando invece al lato hardware, hardware che è appunto anche all'interno dei processori mobile, Intel ha cancellato un nodo, precisamente quello con nomenclatura 20 angstrom. Per quanto riguarda questo nodo sarebbe stato un qualcosa in uscita prima, ma comunque in concomitanza dei lavori sul 18 angstrom, che effettivamente sono le due tipologie di nodi a cui ambiva Intel. Di per sé sembra che per, appunto come ci riporta more than tech.it, concentrare tutte le proprie energie sul 18A non ci sia più la possibilità di lavorare sul 20 e quindi si salterà direttamente alla generazione successiva. Molto, molto particolare, ma probabilmente un evento concomitante conseguente al fatto che Intel in questo momento non se la stia passando affatto bene e abbiano problemi economici veramente ingenti all'interno dell'azienda che stanno portando a licenziamenti di massa e a rivedere un pochettino tutta l'economia dell'azienda. Intel, spero che tu ti possa riprendere perché abbiamo veramente bisogno di te. Un colosso del genere non può fallire, è importante per il mercato. Anche se odiate Intel per magari qualcosa che hanno fatto, raga, sono vitali per il mercato. Non devono fallire. E cercando di incoraggiarli parliamo appunto della nuova generazione di processori mobile a bassa potenza che hanno annunciato. Stiamo parlando della serie Core Ultra 200V. V non sono per fortuna i volt, ma effettivamente il nome potrebbe farlo un pochettino pensare, ma una nuova generazione dedicata al mondo dell'alta efficienza, della bassa potenza, ma di per sé per portatili da ufficio e lavoro, con un'efficienza veramente incredibile. Sono dei processori che rientrano nella categoria di peso per esempio dell'Apple Silicon nella versione liscia, quindi M1, M2, M3 e M4, non le versioni Pro o Ultra o Max, e di per sé servono per chi voglia fare produttività di tutti i giorni senza appunto massacrare la propria batteria, andando quindi a incrementarne anche la sua longevità. Sono con una capacità comunque simile di per sé processori dedicati a questo mondo. Per quanto riguarda la line-up, come potete vedere comunque si conferma quello che vi ho appena detto, nel senso che i P-Core e gli LP-Core, comunque in generale tutta quanta la formazione per quanto riguarda i Core, e i Thread è molto bassa. Stiamo parlando di 8 Core e 8 Thread, non c'è nemmeno l'Hyper Trading, con frequenze fino a 5.1 per quanto riguarda l'Intel Core Ultra 9 288V. Devo dire che i nomi sono veramente complessi, su questo potete lavorarci positivamente, però di per sé l'altra novità molto interessante è la presenza delle nuove GPU Arc, di per sé condivise da praticamente tutta la line-up alta con la 140V e poi abbiamo la 130V invece per la fascia più bassa, che inizia dal 238V. Per quanto riguarda queste GPU abbiamo 8 XE Core, mentre 7 per quanto riguarda la 130V. Come potete vedere la frequenza aumenta progressivamente man mano che ci avviciniamo al 288V, così come anche aumentano i PTOPS della calcolo AI. Come potete vedere ci sono due versioni anche per processori simili, perché uno viene messo con capacità di 16GB e invece con l'altro di 32GB per quanto riguarda la RAM, che poi viene condivisa anche come VRAM per quanto riguarda appunto la nostra GPU. E infine potete vedere che invece TDP rimane uguale per tutta quanta la line-up, con però la versione base, appunto non il boost, che scende fino a 8W per l'Intel Core Ultra 5. Sempre low power DDR5X, come appunto vi dicevo c'è tutta quanta la divisione in base alla tipologia, ma ogni versione ha una 16 e una 32, e poi appunto la nostra NPU con TOPS fino a 48, che attualmente sono una line-up veramente interessante sotto questo punto di vista, perché è in linea o comunque in pari o superiore a molta dell'offerta di mercato attuale. Wi-Fi 7 e tutte le novità per quanto riguarda connettività e il contorno di BIOS e cose del genere sono esattamente uguali all'ultima generazione di processori Intel, quindi di per sé molto interessante. Staremo a vedere questo, ma soprattutto siamo molto molto in hype qui per Arrow Lake. Tirate fuori qualcosa di forte, tirate fuori qualcosa di grosso Intel, di potente tra Bartlett Lake e, pronunciabile, e Arrow Lake. Abbiamo bisogno di Intel sul mercato, non può andare via Intel. AMD sta lavorando bene? Non basta AMD, abbiamo bisogno di più. Sony ha confermato quello che è stato un leak recente riguardo la PS5 Pro, almeno per quanto concerne la sua esistenza, forse è la scocca rinnovata. Infatti, come potete vedere qui all'annuncio del trentesimo anniversario, qui dietro c'è una scocca con queste righine qui, che vanno a coincidere perfettamente con quella che è stata l'immagine simulata di una PS5 Pro, che appunto dovrebbe essere uguale. Niente di che, semplicemente questo. Sapete che i leak nell'ambito console sono o il mondo o il niente. Abbiamo questo questa settimana. Ma parliamo di AMD, che ha lanciato uno dei processori più interessanti, penso, degli ultimi cinque anni. Quello che probabilmente sarà il 5800X3D di questa generazione. Sto parlando del 7600X3D. Processore molto, molto interessante. Ma anche una grossa condanna, per più motivi. Allora, da quanto ci riportano le prime news e recensioni, sembrerebbe che il 7800X3D sia soltanto l'8% più lento del 7800X3D nel mondo del gaming, battendo il 7900X3D e 9700X. Capite che già qua siamo di fronte a un processore incredibilmente interessante, anche perché essendo un Ryzen 5, ovviamente, costerà meno del già famigerato 7800X3D. Sono gasato. Seicore con 3DV Cache. Sono gasato due volte. Qui un brevissimo confronto con tutta quanta la line-up per quanto riguarda questo processore. Come potete vedere, le frequenze sono più basse del 7600X e 7600. Il TDP rimane condiviso con quello del processore liscio. Ha, ovviamente, moltissima più cache per via della presenza della 3DV Cache. E il processore al lancio ha esattamente lo stesso prezzo del 7600X quando fu. Però, ovviamente, questo processore ormai a livello di market price, cioè quello che lo trovi, appunto, in giro su Amazon, su New Egg o su altri siti, effettivamente è già sceso. Quindi non è più 299, è notevolmente inferiore. Soprattutto perché il 7600 liscio ha delle prestazioni pressoché identiche, ma, appunto, un costo nettamente inferiore partendo da un TDP 229. Prezzo a parte. Prestazioni toste. Allora, i primi benchmark ce li offre Micro Center. Perché l'oro? Perché un negozio così grande ha accesso a questo processore? Perché sono gli unici rivenditori al mondo per quanto riguarda gli Stati Uniti. Hanno un'esclusiva totale. Soltanto loro possono vendere 7600X 3D. Oltretutto stanno facendo un bundle con B650 e RAM a 450 dollari. A quanto noi compriamo il 7800X 3D? Perché il mercato americano è così rotto? Perché siamo così messi male noi? Comunque, prestazioni. Cyberpunk. Come potete vedere hanno fatto test in realtà molto accurati. tra questo e il 7800X 3D per farci vedere le differenze. E 1080p low in realtà la differenza è soltanto del 2.55%, che è veramente niente insignificante. Cosa che viene più o meno mantenuta ma in realtà si appiana quasi completamente man mano che saliamo con la risoluzione e andiamo a utilizzare anche tecnologie come per esempio il ray tracing. Fino a uno 0.20 in 4K che è letteralmente niente. Considerabile un errore statistico. Prestazioni veramente molto interessanti. Red Dead Redemption più o meno ci dà la stessa soluzione. Qua stanno veramente facendo i test in 1080p low per vedere le differenze effettive al massimo del potenziale del processore. Tanto proprio per dimostrare che in condizioni di stress non ci saranno problemi ancora meno quando invece andremo a utilizzarlo a risoluzioni ideali come 1440p. Per quanto riguarda Warhammer 3 che è un gioco veramente tanto più intensive anche qui le differenze rimangono molto simili tranne nell'ambito della campagna dove ha un vantaggio effettivo il 7800XRD ma ricordiamoci che questo processore costa notevolmente meno quindi di per sé il prezzo è molto interessante e in ogni caso le prestazioni anche se avessero una differenza del 10% sarebbero molto molto buone in termini di output di fps. Returnal anche qui una differenza del 4% e dell'1% semplicemente più che altro se vedete le differenze maggiori sono quando il processore viene lasciato libero di poter operare al massimo delle sue condizioni ma se lo utilizziamo nel contesto in cui le persone normali utilizzerebbero un processore del genere cioè a ultra potete vedere che le differenze si assottigliano in una maniera così pesante da rendere pressoché inesistente la differenza cioè è incredibile guardate anche qua per esempio all'O si c'è quasi un 4% di differenza ma se lo mandiamo a ultra dove appunto prende più valore la scheda video di per sé il processore performa in maniera pressoché identica sicuramente ci sono delle differenze per quanto riguarda il multicore perché comunque un 6 core e non un octa core come il 7800XRD però guardate in single core anche su cinebench ci sono delle differenze veramente piccole idem qua con il benchmark di 3DMark onestamente io questo processore lo proclamo un campione ma allora ragazzi perché vi dico che è una condanna? perché questo processore era in esclusiva negli Stati Uniti era perché è finito? no, era perché abbiamo per fortuna la Germania infatti, infatti, infatti guardate qui in tutta la sua gloria la Germania con il loro sito che non ha una cazzo di traduzione in inglese devo capire se sono un air o un frau ovviamente sono tipo, non lo so, sono un air 329 euro, 7600XRD spedito in Italia con una spedizione abbastanza bassa e vi regalano, guardate, guarda, guarda, guarda vi regalano pure la magliettina di AMD ma dove vogliamo, ma gli Stati Uniti che hanno il bundle della scheda madre delle RAM grade noi abbiamo la magliettina di AMD molto meglio, molto meglio, assolutamente ovviamente sto scherzando, però 329 euro è un prezzo veramente molto, molto interessante ovviamente il link è giù in descrizione, non è un referral, non ci guadagno niente mi fa solo piacere che qualcuno di voi approfitti di un'ottima offerta perché questo processore è una manata incredibile, è veramente assurdo e grazie AMD per averlo portato anche in Europa perché è quello di cui molte persone avevano bisogno questo con una 4070 Super è l'apoteosi totale, cioè non c'è niente da dire di per sé il processore è veramente figo, niente da aggiungere se lo volete comprare, link in descrizione andiamo avanti con lo SharkX ragazzi è arrivato finalmente in commercio lo SharkX, ve ne ho già parlato al Computex lo SharkX arriva in commercio, arriva in commercio purtroppo soltanto come build completa perché giustamente la logistica e altre cose probabilmente influiscono negativamente sul prezzo di questo coso e venderlo come un bare bone in cui montare le componenti probabilmente sia complesso che costoso per Cooler Master arriva sul mercato come una build da 7000 euro ma ricordiamoci che ovviamente tutti questi case sono sperimentali e rappresentano un qualcosa che nel mercato non ha un'economia di scala cioè magari se ne vendono 200 e tanto però di per sé è figo vedere dei brand fare qualcosa di diverso ogni tanto guardatelo qui con la sua pinna RGB e la sua piccola ventola grigliata nella parte superiore mamma mia che bello come potete vedere sono 6999.99 dollari che però dovrebbe tradursi esattamente uguale anche in euro da quanto mi hanno detto potete vedere si sono un tot di descrizioni vi arriva effettivamente lo squalo è altissimo vi dico vi dovete fare un tavolo appositamente solo per lui per evitare di romperlo un mobile o cose così la configurazione interna è un 14700F una 4070T Super 64 giga di RAM DDR5 2x32 2TB di SSD e Windows 11 e una B760i diciamo che per il prezzo si sarebbero potuti impegnare un po' di più ma se lo stanno portando sul groppone da 6 anni se non sbaglio quindi di per sé capisco che i costi finali sono stati molto importanti ecco quindi non li biasimo più di tanto ovviamente è una build modificabile entro i limiti dei supporti perché ha una forma veramente assurda non lo sto giustificando però se siete pazzi per gli squali o pazzi e basta potete comprarlo appunto sul sito ufficiale di Cooler Master o dai partner ah bello oltretutto hanno una collaborazione per preservare gli oceani bello effettivamente uno squalo ci sta invece con la Sneaker X preservano cosa? preservano Nike hanno una collaborazione con Nike e infine ragazzi una nuova End Dead Acer non ha annunciato soltanto un 600Hz non ha annunciato soltanto quel mattissimo portatile con il controller integrato ha annunciato anche la sua piccola Endeld onestamente mi sembra un po' una mossa suicida ma commentiamola la Nitro Blaze 7 o Nitro Blaze 7 è detto un po' all'italiana come potete vedere è un Endeld che onestamente mi richiama molto da vicino Endeld già presenti sul mercato con un design veramente aggressivissimo nella parte posteriore non so dirvi se mi piace perché è veramente poco minimal per quanto riguarda la configurazione abbiamo un 8840U quindi da 20-30 watt invece dei 15-30 che ci sono in altre configurazioni di per sé non molto diverso praticamente dallo Z1 Extreme 8-Core Zen 4 sempre la 780M che ormai inizia a mostrare un po' il fianco 16 GB di memoria LEP DDR5X 7500MHz anche qui c'è già la Rogali X sul mercato quindi o fate un prezzo assurdo o non so come sia competitiva e fino a 2 TB di storage SSD NVMe 2-280 almeno questo perché così può essere cambiato schermo IPS 1080p 144Hz anche qui e arrivate dopo di tutti mettete un OLED cioè Steam Deck OLED sta per uscire dal mercato e c'ha l'OLED montato 500 nits, FreeSync, 670 grammi di peso e una batteria da 50 wattora se vuoi essere onesto per aver visto il fallimento della Clou mi aspetterei che i concorrenti più grossi come Acer di mercato portino insomma prodotti incredibili in questo caso mi sembra una roba veramente che sarebbe dovuta uscire un anno e mezzo fa e hanno tardato e l'han tirata fuori solo per dire di averne una magari non ci perderanno più di tanti soldi ragazzi però cioè non è niente di che è una roga a lie però due anni in ritardo cioè considerato più che altro i tempi di commercializzazione non è due anni in ritardo però insomma boh si poteva fare meglio decisamente qui abbiamo un pochettino le specifiche tecniche sì posso dire niente di emozionante non è delle handheld più generiche che abbiamo mai visto cioè se costa più di 500 euro è morta all'arrivo Ryzen AI che me ne faccio vabbè perché il processore lo supporta però va bene queste erano le news per questa settimana vi ricordo like, commento e iscrizione sempre graditi e benvenuti fatemi sapere ovviamente le vostre opinioni su questi incredibili prodotti giù nella descrizione di questo video non nella descrizione nei commenti mannaggia al cazzo dico sempre questa qui per il resto noi ci vediamo al prossimo video vi state su modern tech salamusa ciao ciao